Ciao e benvenuto nel mio canale YouTube a quale ti invito ad iscriverti per rimanere aggiornato sui prossimi video che farò su Posto al Sole ma anche su tanto altro. Viola alla fine abbiamo visto tradire suo marito Eugenio con Damiano, quindi la lunga crisi tra lei ed Eugenio non è stata superata, e soprattutto tra i due quella più in crisi era proprio Viola, che abbiamo visto non essere più innamorata di suo marito e invece adesso è molto molto presa da Damiano. Questo sentimento nei confronti di questo ragazzo è cresciuto nel corso dei mesi, e quindi Viola ha detto che ha cercato più volte di evitare che si arrivasse a tradimento, ha cercato più volte di soffocare questo suo sentimento che stava nascendo, ma alla fine non è più riuscita a gestirlo, è derivata fino al punto di tradire suo marito con Damiano. E questo sicuramente è un duro colpo per Eugenio, soprattutto perché si ritroverà ad avere un doppio tradimento, uno da parte di sua moglie e uno da parte di Damiano, che lui considera comunque un amico, un uomo di fiducia, si fida molto di lui, si conoscono veramente da tanti anni, e quindi sicuramente Eugenio non avrebbe mai pensato che Damiano potesse fargli una cosa del genere. Invece è successo proprio questo, e Viola insomma in questo periodo non è riuscita più a gestire questa relazione che ha con Damiano, tant'è che insomma ha rivelato a un certo punto Damiano di voler confessare tutto ad Eugenio, quindi di riraccontargli, di confessargli che l'ha tradito e che l'ha tradito con Damiano. Damiano ha chiesto a Viola di aspettare un attimo, di aspettare il termine dell'operazione, della sua missione che stava per concludersi, questo per evitare che questa situazione sua personale potesse andare a intaccare in qualche maniera la missione. E' missione che per Damiano non si è concluso affatto bene, perché il clan sabbiese dove lui era infiltrato l'ha scoperto, ha scoperto che Damiano in realtà faceva il doppio gioco, e quindi questo ha fatto scatenare tutta la vendetta del clan sabbiese, ma in particolare di Tony, Tony che è uno degli schegnozzi di Edoardo, che fino a subito ce l'aveva, ce l'ha avuto insomma con Damiano. Questo perché? Perché Damiano durante una valutazione ha ucciso Pasquale, che era uno di loro, e quindi Tony vuole vendicarlo, vuole vendicarsi, e forse è stato per lui l'avrebbe già fatto fuori insomma a suo tempo. Però Tony è sempre stato messo a bada finora da Edoardo, Edoardo che era uscito in qualche maniera a evitare che Tony facesse danni, e però questa volta invece non ha potuto far nulla perché Tony ha agito in via autonoma. Questo soprattutto perché? Perché Tony ha capito che Edoardo non è un capo clan che è in grado di arrivare fino in fondo alle cose. Quando Tony ha proposto più volte, soprattutto adesso che è stato scoperto Damiano, quando ha proposto di uccidere Damiano, Edoardo ha sempre difeso Damiano, e anche adesso ha cercato di prendere tempo, dicendo che non era il momento giusto per farlo fuori, ma di farlo eventualmente più avanti. Però Tony veramente è fuori di sé, e avendo appunto visto che Edoardo non va fino in fondo, ha deciso di agire in via autonoma, nonostante, cioè fregandosi anche delle eventuali conseguenze che Edoardo può fare nei suoi confronti. E così Tony organizza un attentato ai danni di Damiano, e che Damiano però ne esce illeso e a fanene spese invece è la sua ex moglie Rosa, che si prende insomma una pallottola a suo posto, ed è, abbiamo visto veramente in gravi condizioni. Questa cosa ha fatto avvicinare Damiano a Rosa, quindi qui è un passaggio molto importante, perché Rosa poi, oltretutto noi l'abbiamo vista sempre innamorata di Damiano, ha sempre sperato un giorno di poter tornare con lui, ma fino ad ora abbiamo visto Damiano veramente, insomma sembra veramente innamorato di Viola. Però quello che è successo sta facendo ravvicinare i due, e quindi questa cosa qui potrebbe creare dei danni, dei problemi a Viola, che nel tempo stesso Viola si sta separando, insomma, dal marito, insomma il marito ha scoperto tutto, non c'è stato nemmeno bisogno della confessione di Viola, perché Eugenio l'ha anticipata, perché è riuscito a capire tutto quanto. L'ha capito quando ha visto Viola consolare Damiano per quello che era successo alla sua ex moglie, l'ha visto mentre insomma le faceva una carezza, e quindi questa cosa qui l'ha fatto in qualche maniera svegliare. Ecco, da quel momento lì ha capito che tra questi due c'era un qualcosa, e ha ricostruito tutti gli eventi degli ultimi mesi, e qui non poteva assolutamente sbagliarsi. Comunque poi ha chiesto conferma a Viola, Eugenio ha messo Viola alle strette dicendone guarda io ho capito che c'è un'altra persona tra di noi, e questa persona è Damiano. E ti chiedo, conferma, insomma, se quello che io penso io è vero. E quindi adesso, in questa occasione, Viola si è sentita veramente con le spalle al muro, e ha dovuto confessare per forza. Quindi ha confessato tutto, dicendogli anche che la cosa, insomma, era andata avanti, cioè in realtà i due sono stati proprio insieme insieme da pochissimo tempo, e prima invece nei mesi scorsi hanno cercato di evitare che questo tradimento accadesse, hanno cercato di stare alla larga, proprio per anche riprimere il sentimento che stava nascendo in ognuno di loro. Però, insomma, alla fine invece non ci sono riusciti, ed Eugenio è veramente impazzito, stiamo vedendo un Eugenio come non l'abbiamo mai visto. Veramente colpito al cuore, non so quanto gli stia facendo più male, se il tradimento della moglie o il tradimento di Damiano, fatto sta che è veramente sconvolto. E ha avuto una reazione che non ci aspettavamo da parte di Eugenio, è una reazione appunto non da Eugenio, che è stata quella quando ha visto Damiano, siamo nello studio, nell'ufficio di Eugenio, dove si rica Damiano, però Eugenio non riesce nemmeno a guardarlo negli occhi, anzi, praticamente, insomma, volge lo sguardo da un'altra parte, e Damiano continua a parlare mentre lui parla, a un certo punto gli appoggia la mano sulla spalla e Eugenio si ferma, gli dice toglimi questa mano di dosso, si gira e gli sferra un pugno. Quindi Eugenio colpisce Damiano. E questa è una reazione che sicuramente noi fan, non ci aspettavamo affatto perché non abbiamo mai visto un Eugenio così, e quindi veramente è un genio fuori di sé, che veramente non riesco a capire quanto gli stia facendo più male, se il tradimento della moglie o quello di Damiano. Veramente è un genio sconvolto, e chissà che cos'altro potrà succedere nelle prossime puntate. Fatto sta che adesso Viola e Eugenio stanno già vivendo in due case separate, cioè Eugenio sta dormendo nella sua e mentre Viola è tornata a vivere dai suoi genitori. E al tempo stesso Damiano invece si è avvicinato con Rosa a seguito dell'attentato e qui la domanda sorge spontanea. Ma non è che tutto questo che è accaduto contemporaneamente alla fine, in tutto questo affare nelle spese, sarà proprio Viola, che magari rimarrà sola, quindi ha lasciato suo marito ed ora invece Damiano potrebbe non volerla più, ma potrebbe rendersi conto in realtà di amare ancora Rosa. Essendoci questo, di nuovo questo riavvicinamento, tra lui e la sua ex moglie, questo riavvicinamento potrebbe, chissà, magari accendere un qualcosa da parte di Damiano e questo vorrebbe dire veramente per Viola rimanere da sola. Io voglio chiederti se secondo te questo è, questa può essere un'ipotesi possibile. c'è stata una scena tra Damiano e Viola che parlano di quello che era successo, Damiano gli dice che Eugenio ha sferato un pugno, che praticamente ora non può pensare a Viola, ma deve solo pensare a stare insieme a Rosa e a suo loro figlio e quindi non può dedicargli il tempo che Viola si aspetta in questo momento. Ecco, Viola, lei si aspettava sicuramente un appoggio da parte di Damiano, soprattutto adesso che ha raccontato tutto la verità ad Eugenio e invece non è stato così. E quindi qui ci potrebbe essere anche il rischio di vedere Viola da sola. Io a questo punto ti invito a scrivere la tua ipotesi, la tua opinione su quello che potrà accadere. se secondo te alla fine Damiano e Viola saranno insieme vivendo la loro relazione a luce del sole o seppure invece pensi che ci possa essere un colpo di scena con Damiano che torna con Rosa e Viola che rimane da sola. Scrivi tutto nei commenti, iscriviti al mio canale YouTube, ti raccomando, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!